Musica Buongiorno, siamo Canizzaro TV e siamo qui con Pietro Romano, Sindaco di Rò Buongiorno Sindaco, per quale motivo il Comune di Rò si è impegnato nel progetto Expo Junior? Beh, come città ospitante dell'Expo era un dovere sostenere questo progetto che abbiamo voluto anche attraverso il patto dei sindaci che è un'organizzazione di 16 comuni del nord ovest che ha fatto un grande progetto culturale per animare un po' il territorio in vista di Expo. Una delle linee di intervento, forse la più importante, era quella a scuola di Expo all'interno del quale c'è Expo Junior. Che tipo di impatto sta avendo e avrà sul territorio Expo 2015? Impatti positivi e negativi. Positivi per quanto riguarda la nostra economia, le imprese stanno lavorando, le persone sono state assunte in Expo e positivi anche progetti come questo di Expo Junior, cioè riportare il tema di Expo della nutrizione e dell'alimentazione al centro della discussione. Negativo per quanto riguarda l'impatto sulla viabilità, disagi e cantieri, ma questo dobbiamo considerare che siamo di fronte al più grande cantiere d'Europa e quindi è anche abbastanza naturale. Secondo lei, quale dovrebbe essere l'uso dell'area Expo dopo la manifestazione? Beh, alcune regole sono già state date e adottate dal Consiglio Comunale di Rò, che è competente assieme a quello di Milano, quindi i due terzi di quell'area verrà destinata a parco, poi bisogna stabilire che tipo di parco, parco sportivo, parco tematico, parco naturalistico e poi ci sarà uno sviluppo anche di carattere più classico, quello che è importante è che rimangano grandi funzioni pubbliche che ricordino alle generazioni future che lì nel 2015 c'è stato Expo con il suo tema e quindi la cosiddetta legacy di Expo anche immateriale dovrà trovare ospitalità all'interno di quell'area. Purtroppo oggi, ad oggi il bando è andato deserto e a metà dicembre ci sarà una riunione tra tutti i soci della società proprietaria dell'area Arespo, tra i quali il Comune di Rò per prendere delle decisioni in merito. Ok, la ringrazio e buona giornata. Grazie a voi.